I reparti aeronavali della Guardia di Finanza sono parte integrante di un dispositivo permanente di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti come quello dei migranti clandestini via mare, che opera costantemente nel tratto che va dalle nostre acque fino ad estendersi a quelle internazionali. In quest'ambito, nei pressi di Capocolonna e malgrado le condizioni del mare stessero rapidamente peggiorando, un guardacoste del Gandhi Taranto, con l'appoggio di una vedetta della stazione aeronavale di Corigliano Carabro, ha intercettato una barca vela battente bandiera statunitense di circa 13 metri, con a bordo 43 migranti, di cui 5 minori, 3 donne e 35 uomini, di nazionalità iraniana, irachena, siriana, bengalese e pakistana, più 3 sospetti scafisti, 2 uomini e una donna, presumibilmente coraini, ancora da identificare. L'imbarcazione si stava avvicinando alla costa per attraccare nelle vicinanze di Crotone. Poche ore dopo, un altro pattugliatore del Gandhi Taranto, che opera per l'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera Frontex, ha intercettato ed è affiancato un peschereccio presumibilmente egiziano, in avvicinamento verso le coste ioniche e meridionali della Calabria, con una cinquantina di migranti a bordo, di provenienza prevalentemente meridionale e asiatica, nonché i sospetti scafisti. A causa delle condizioni meteo che rendevano non consigliabile il trasbordo dei migranti sul natante della Guardia di Finanza, ed essendo il peschereggio in grado di navigare autonomamente, è stato condotto verso Reggio Calabria, dove è arrivato intorno alle 8 di stamattina. Qui l'organizzazione dell'accoglienza a terra predisposta coordinata dalle prefetture di Crotone e Reggio Calabria.